Ebbene, non so che cosa accadrà ad ora in poi. Ci aspettano giornate difficili, ma davvero per me ha poca importanza, perché sono stato sulla cima della montagna e non mi importa, come chiunque mi piacerebbe vivere a lungo. La longevità ha i suoi lati buoni, ma adesso non mi curo di questo, voglio fare soltanto la volontà di Dio e Lui mi ha concesso di salire fino alla vetta. Ho guardato al di là e ho visto la terra promessa, forse non ci arriverò insieme a voi, ma stasera voglio che voi sappiate che noi come popolo arriveremo alla terra promessa. E stasera sono felice, non c'è niente che mi preoccupi, non temo nessun uomo, i miei occhi hanno visto la gloria dell'avvento del Signore. Quello che abbiamo appena sentito è l'ultimo discorso di Martin Luther King, pronunciato a Memphis, nel Tennessee, il 3 aprile del 1968. King quella sera era particolarmente emozionato, i toni del suo discorso erano toni gravi, toni corrucciati, toni preoccupati. E poi soprattutto c'era questa strana e cupa profezia, paragonandosi in qualche modo a Mosè, che con il popolo di Israele aveva condiviso il cammino del deserto, esattamente come Mosè dice, Io vedo la terra promessa, ma non so se arriverò nella terra promessa. Non è da stupirci se questo King quella sera fosse così preoccupato. In effetti era un momento estremamente difficile per la sua carriera politica, era poco compreso anche dai suoi sostenitori. Stava attraversando una fase importante che definiva una nuova strategia di lotta non soltanto contro il razzismo, ma contro la povertà. E quindi in qualche modo aveva arricchito di nuovi elementi la sua agenda. Certo, gli obiettivi erano diversi, ma la storia, la narrazione, la predicazione di King in quel contesto era sempre la stessa. Qualcuno dice che King abbia predicato in tutta la sua vita su un solo sermone, l'Esodo, raccontando e interpretando la storia di Israele nella esperienza concreta, vissuta, di oltre 20 milioni di afroamericani esclusi dal diritto di voto, lungamente segregati e comunque classe B o C nella società più opulenta del mondo. L'Esodo, raccontando la sua vita su un solo sermone, 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 È interessante chiedersi che cosa ci facesse Martin Luther King a Memphis il 3 aprile del 1968. Certamente, come dicevamo, era un momento difficile per la sua azione politica. Subiva le critiche molto forti da parte dell'establishment della Casa Bianca, ma anche era criticato da alcuni settori più radicali del movimento afroamericano. Eppure quella sera lui era lì, in mezzo ai netturbini di Memphis. Perché? È interessante perché l'aveva invitato proprio a Memphis, un suo grande amico essodale, un personaggio chiave del movimento per i diritti civili, il pastore metodista Jim Lawson. King era un pastore battista, ma la cooperazione con il suo collega Lawson, ne vorrei dire anche l'amicizia, era davvero molto importante. Lawson, negli anni 50, era stato uno dei primi obiettori di coscienza. Aveva rifiutato, infatti, di arruolarsi per andare a combattere nella guerra di Corea. Era stato espulso per indegnità antipatriottica addirittura dal suo seminario teologico metodista, ma la stessa chiesa metodista gli aveva offerto una interessante opportunità alternativa. Lo aveva mandato come missionario in India. Siamo nei primi anni 50, la memoria, l'eco, la tradizione del movimento gandiano non violento è ancora molto forte. E quindi Jim Lawson, in prima persona, sperimenta le tecniche della non violenza gandiana. Non soltanto studia il gandismo, ma vive il gandismo. Per questo, quando tornerà in America, sarà molto naturale il contatto con Martin Luther King. Quindi è Lawson a invitare King a Memphis per difendere la causa dei netturbini. Perché i netturbini? Ma questioni di poco conto rispetto alla grande agenda del movimento per i diritti civili. Quindi venivano pagati poco. Erano tutti afroamericani. Quando pioveva non venivano pagati per ragioni davvero incomprensibili. E soprattutto nelle ultime settimane c'erano stati ben due incidenti mortali di netturbini che avevano perso la vita perché utilizzavano dei macchinari obsoleti. Era una vicenda minore. King all'epoca era già premio Nobel per la pace, personalità riconosciuta in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Eppure ritenne di dover accogliere l'invito del suo amico Lawson per sostenere la causa dei netturbini. Perché? Perché King in quegli anni capiva che il problema non era soltanto quello del razzismo, ovvero della eredità drammatica, dello schiavismo e della segregazione. Ma un grande problema americano era quello della povertà. E la vicenda dei netturbini di Memphis esprimeva benissimo la domanda di giustizia che alcune fasce popolari, soprattutto nere, rivendicavano. Per questo lui intende organizzare una grande marcia a Washington, esattamente come quella famosissima di cui parleremo tra breve dell'agosto del 1963. Quel momento magico per la storia del Movimento per i diritti civili quando King pronunciò il suo discorso più noto e più celebre, I have a dream. Ecco, nel 68, cinque anni dopo, in un contesto politico molto diverso, King voleva utilizzare la stessa formula per portare centinaia di migliaia di persone, americani, bianchi e neri, i poveri americani, a Washington per affermare i propri diritti. E quindi la piccola vicenda di Memphis si inseriva perfettamente in un piano strategico che si sarebbe concluso ancora una volta nel mall di Washington, D.C. Ma come si svolsero le ultime giornate di Martin Luther King? Alla mattina del 3 aprile del 68 si alzò da Atlanta, dove abitava, fece colazione con sua moglie, insieme al collega e amico Abernethy, che era uno dei grandi leader che lo accompagnavano nelle sue campagne di protesta, e poi aveva preso l'aereo per Memphis, arrivato a Memphis, immediatamente aveva fatto un incontro con i pastori della città. Dobbiamo capire che i pastori e soprattutto i pastori delle comunità afroamericane sono dei personaggi chiave del movimento per i diritti civili. Perché? Essenzialmente perché erano le uniche persone davvero libere. Non avevano un datore di lavoro, non dipendevano da un'amministrazione, da un consiglio comunale, e quindi avevano quella libertà morale ma anche materiale per potersi opporre e organizzare anche delle campagne non violente di disobbedienza civile. Quindi per capire il movimento di quegli anni, necessariamente, almeno nella sua prima fase, dobbiamo fare riferimento a queste figure cardine, Abernethy, King, Lawson, di cui abbiamo parlato prima. Bene, con loro King fa una riunione strategica, pranzo, riposino, nuova riunione e alle sei si affaccia dal balcone del motel nel quale è ospite. Andava sempre nello stesso motel quando era a Memphis, il Lorraine. E da lì incomincia a chiacchierare con le persone che sono sotto il cortile, che lo aspettano, lo vogliono salutare. Qualcuno gli dice, pastore, stasera farà freschetto, si porti un soprabito. King non fa in tempo a rispondere, perché alle 18.01 del 4 aprile 1968 viene esploso dal palazzo di fronte un unico colpo che colpisce a morte il reverendo King. Viene immediatamente soccorso, immediatamente fu individuato il luogo dal quale l'attentatore aveva sparato. E lì comincia una caccia all'uomo, assolutamente infruttuosa. E qui cominciano a porsi delle domande. Com'è possibile che Martin Luther King, una delle persone più rispettate, ma anche più controverse dell'America di quegli anni, non avesse una scorta o qualcuno che lo proteggesse? E in secondo luogo, una volta che si era determinato il luogo dal quale l'attentatore aveva sparato, perché non è stato attivato immediatamente un meccanismo di chiusura dell'area? Soltanto settimane dopo viene arrestato un singolare personaggio, James Earl Ray. Un personaggio davvero singolare. Non è un razzista innanzitutto, semmai è una sorta di lupo solitario, un criminale con una serie di record criminali anche abbastanza inquietanti, ma nulla di così drammatico, per così dire, da farne addirittura un killer di una delle personalità più note e importanti degli Stati Uniti di quel momento. E per giunta sorgono altri interrogativi. Si scopre che Ray, dopo aver ucciso King, è andato nel Regno Unito. Per giunta, dopo qualche giorno nel Regno Unito, rientra negli Stati Uniti con dei falsi nomi. Possibile che tutto questo possa accadere nel momento in cui la caccia all'uomo, per così dire, si è già scatenata? Insomma, ancora oggi. Noi abbiamo un'evidenza giudiziaria, una prova giudiziaria, che ci dice che Ray è stato l'omicida di Martin Luther King, ma abbiamo una serie di elementi che invece mettono in discussione o questa tesi o l'idea che lui sia stato il lupo solitario che da solo ha organizzato l'attentato contro King. Forse allora, la vera domanda che ci dobbiamo porre non è chi abbia ucciso Martin Luther King, ma che cosa lo abbia ucciso. Quale complesso di fattori abbia ucciso un personaggio di quella levatura? Per capirlo dobbiamo andare all'agenda politica di quegli anni, ricostruire come in un nastro la storia di quei 13 anni dall'inizio del Movimento per i diritti civili a Montgomery nel 1955 fino alla morte a Memphis nel 1968. E' quello che faremo nella prossima puntata.